Il corso di laurea in giurisprudenza dell'Università Bocconi è un corso di laurea in diritto a tutti gli effetti, ha lo stesso valore legale del titolo che si può acquisire nelle altre università italiane. La tradizione quindi, ma con qualcosa di nuovo, dei punti che danno allo studente in giurisprudenza della Bocconi una piccola marcia in più. Il primo punto che caratterizza il corso di laurea in giurisprudenza in Bocconi è dato dallo studio di materie economico, matematico e finanziarie che di solito non si ritrovano negli altri corsi di laurea. Il nostro studente fin dal primo anno studia matematica, studia statistica, studia l'economia imparando così come l'economia si concilia col diritto. Ulteriore importante caratteristica del corso Bocconi è quello di essere incentrato non solo sulla teoria ma anche sulla pratica. Il nostro studente infatti a partire dal terzo anno può prendere parte delle simulazioni, può studiare casi pratici, può concorrere a formare una squadra che parteciperà poi a una importante competizione internazionale, il MUT, nella quale si sfidano centinaia di università di tutto il mondo. Altra importante caratteristica è quella dell'internazionalità. Il nostro studente si concentra non solo sullo studio del diritto interno ma anche su quello del diritto internazionale e comparato. C'è poi la possibilità per i nostri studenti di passare un periodo di studi all'estero in una delle tante università convenzionate con la Bocconi e che si trovano in ben quattro continenti.